Musica Scende in capo il solo girone C domani nella Serie A maschile prima divisione nazionale è il nono turno stagionale per il raggruppamento guidato in classifica dalla Junior a Fasano la formazione pugliese scende in campo domani in trasferta con l'obiettivo di prolungare una striscia positiva fatta attualmente di 8 vittorie in altrettanti incontri avversario di turno è la Lazio, formazione con 6 punti e 2 vittorie all'attivo la sfida avrà inizio alle 20 e sarà diretta in terra laziare dai signori Bairo e Balzano chi gioca per non perdere il contatto con il Fasano il Planet Win 365 con Bersano i vice campioni d'Italia Reducci dalla vittoria nel derby contro il Noci domani tornano in casa e ospitano il Cus Palermo a cominciare dalla 19 arbitri Simone e Monetillo dopo un turno di riposo torna in campo domani la Semat Fondi terza in classifica che dovrà difendersi dall'assalto del Città Sant'Angelo distante appena tre lunghezze in classifica e ospite di domani la gara avrà inizio alle 18 dirigono i signori Romana Romana nel gruppo che punta alla terzo posto anche Tecno Elettronica Teramo e i Nettini Noci entrambe impegnate domani in trasferta gli abruzzesi giocano a Putignano dalle 19 arbitri Coletta e Pinto mentre la formazione allenata da Domenico Iaia è di scena sul campo del GeoTerra Gaeta con fischio d'apertura dei signori Chiarello Bagaria alle ore 17 del primo tempo il passaggio di